Benvenuti in questo nuovissimo video. iOS 16 è finalmente uscito con la sua prima beta. Porta con sé tante novità. Una delle tante è la possibilità di personalizzare la lock screen scegliendo tra diversi template, si potrà cambiare il font, il colore dell'orario, ma questo non è tutto. Oggi andremo a vedere come installarlo sui nostri dispositivi. Vi faccio vedere che non vi sto prendendo in giro. Andando in impostazioni, generali, info, come potete vedere la versione installata è la versione di iOS 16.0. Andremo a vedere come installare la prima beta sviluppatore, la prima beta che è quella che è uscita oggi, esattamente il 7 giugno 2022. Installare iOS 16 è semplicissimo, basterà andare su Safari, nel link che vi metterò in descrizione, che vi aprirà questo sito chiamato Beta Profile. Dovrete scorrere, 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 finché non troverete iOS Beta Profile. C'è iOS 16, poi qui sotto troverete quella per iPadOS e tutti i vari dispositivi. Vi ricordo che siamo alla Beta 1 Developer, quindi sarà molto instabile e con molti bug e problemi vari. Vi consiglio di aspettare più avanti con le beta, ma in generale vi consiglio di non installare le beta e di aspettare la versione finale che uscirà a settembre. Ma se come me siete impazienti, cliccate su Install Profile. Vi verrà un avviso, appunto, di fare il backup del vostro iPhone. Io vi sconsiglio tantissimo di farlo sul vostro iPhone principale. Usate un iPhone secondario, perché, appunto, le beta hanno diversi problemi, sia di batteria, ma soprattutto di prestazioni, bug e instabilità. Cliccate su Install Anyway, se siete sicuri di proseguire, e vi verrà questo pop-up. Il sito web sta cercando di scaricare un profilo. Vuoi consentirlo? Consenti. Profilo scaricato, se desideri installarlo, rivedi il profilo nell'app Impostazioni. Andate nelle impostazioni e ci sarà la scritta Profilo scaricato. Cliccateci sopra e dovrete fare su Installa in iOS 16 Beta Software Profile. Cliccate su Installa, mettete il codice del vostro dispositivo, cliccate su Installa accettando il contratto e dopodiché il vostro iPhone sarà riavviato. Riavvia. Una volta riavviato il dispositivo, vi basterà andare nelle Generali, Aggiornamento Software, e dopo qualche secondo vi comparirà l'aggiornamento ad iOS 16 Developer Beta. Cliccate su Scarica e Installa, procederete con l'installazione. Purtroppo, a differenza dell'anno scorso, quest'anno ci lasceranno dei dispositivi. Infatti iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus non saranno più compatibili con il nuovo aggiornamento. Stessa cosa vale per i Mac dal 2016 in giù. Per gli iPad invece abbiamo dalla 50 generazione successive compatibili. Per WatchOS perderemo l'Apple Watch Serie 3.